turnato bravo bravo l'ho turnato si o due piastre sei un dio cassa piastre tieni però è l'hanno rossato io ti devo dire una domanda bro dimmi stella è da quando sei in questa casa d'appoggio che c'è quel cazzo di cavo della televisione ti prego ti prego giorgio ti prego è arrivato quel momento è arrivato il momento di tirare fuori l'indice e nascondere l'ho fatto va bene ora fabbio ciao 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 attraverso un muro dentro un muro dentro un muro deve andare via sotto i noi sono nato sotto ma dove cazzo sono arrivati c'è tecnica mamma mia che giocatore che giocatore ma che sei a dire ma che cazzo ti faceva quello lì sopra da dietro adesso mi sono cagato sotto cioè come ti ha grippato nel monte il speed run con turner ragammo fatemi finire sto rivals una volta finito sto rivals torna fornite torna rainbow six torna la notte dark hob che ci piace tanto e via e rasta è un casino ma eri nick ti ho detto che mi manca giocarlo con crozzi chesi bet fn e tutti gli altri e la dv pure e beh aspetta la dv però non è male non è male però quella che ho a casa no però non è male quella che ho comprato che pare che siete visto che la situazione con un'arma o non l'ho fatto è un'arma? e me ma ha sparato sono due team a lamiere non mi chiedere come sono guarda il verde 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 due team a lamiere cazzo fanno due team a lamiere mi stanno sparando o si stanno sparando davanti a me mi ha scavalcato porco dio però dietro dai dai marco hai smirato come un matto non ti può arrabbiare così però marco che cazzo fa io eh spara quelli a sud come sai magari mentre lo scessa marco ma ha sbruccato ha tirato un estremione enorme cioè ma io dico ma eh lo so eh stanno bene là perché vorrei prendere le armi eh lo so però non abbiamo i soldi lutto questa casa qua eh vabbè comunque voglio dire io ti prendo il lutto del team mario fammi togliere st'arma fammi togliere st'arma è uno schifo totale gas in avvicinamento perché io potrei busciare lo silenzio di tomba se vuoi se vuoi se vuoi ce la cado uno fatto uno ando in fatto uno quanta gente c'è altra gente manca eh se tu oddio tante scout guarda mi stanno continuando a colpire non so dove vera mi pusha che cazzo è che cazzo ha che paura cosa cazzo ha visto cosa cazzo ha visto fra ma ti ho pushato cattivissimo col coltello quello la pizza ho trovato ma dove da dove ha preso rega non lo so è palesemente il coso di fasmofobia quello là il lettore quello là come si chiama non mi ricordo ci facciamo il tatuaggio a Wimla se vinciamo il sulla chiappa anche Gorina anche Gorina anche Gorina che poi odiamo questo gioco con tutto noi stessi no se perdi sei fuori gioco guadagnati la libertà soldati beh ma la fa cura la fa cura che vuol entrare in azione sto dietro le rocce la roccia qua non è ancora finita il tuo team può pagare per farti uscire sì cazzo allora no grazie 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 con i due mesi siamo a schindere una F una F una F una F un nemico in volo un nemico in volo un nemico in volo non mi sono a spiare un nemico in volo di volo un nemico in volo ovviamente che il pando no non ti picco ma demolito mi hanno demolito uno di bush a ora due su due sono tre c'è neanche un altro cit